Nuova settimana, nuovo mercato nero di Maurizio. Questa settimana ci troviamo a Devil's Rezor e il mercato nero è facilmente raggiungibile. Andiamo a trovarlo. Vi ricordo di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per non perdervi il mercato nero di Maurizio quando cambierà posizione su contenuto la settimana prossima. Inoltre se volete supportarmi, attiva la funzione abbonamenti di questo canale a un prezzo bassissimo. Per quanto riguarda il percorso, spawnate Roran Rest, seguite la strada come vi sto mostrando e letteralmente ci vorrà pochissimo col veicolo da arrivare. Facilissimo. Nel mercato nero di Maurizio questa settimana troveremo la pistola leggendaria Scorpio, non è consigliata. L'SMG leggendaria Destructo Spinner, non è consigliata. E infine lo scudo leggendario Re-Router, consigliato su solo specifiche build.